in memoria di Cornelio Zelea Codreanu. Credevamo tutti in Dio, non c'era nessun ateo fra noi. Quanto più eravamo soli e circondati da nemici, tanto più il nostro pensiero si elevava verso Dio e verso i morti nostri e della nostra stirpe. Questo ci dava una forza invincibile e una serenità luminosa di fronte a tutto. Il movimento da cui è nata la Guardia di Ferro risale al 1927, al 24 di giugno, in cinque studenti, avendo il coraggio di iniziare l'agitazione nazionalista rumena. Crescemmo presto di numero e fumo in sette. Cosa avevamo? Non un soldo e niente seguito, però una grande fiducia nella nostra vittoria, perché prima di cominciare ci eravamo chiesto se fossimo tutti disposti a morire e lo eravamo. Questa nostra attitudine spirituale è rimasta immutata. Anche oggi siamo pronti a morire, senza rimpianto e senza tremare. Per noi non esiste sconfitta o disfatta, giacché la forza di cui vogliamo essere gli strumenti è invincibile per l'eternità.